Uno straordinario entusiasmo per l'iniziativa di McDonald's, le giornate insieme a te per l'ambiente, dedicata alla lotta al fenomeno sempre più attuale del littering, ovvero l'abbandono di rifiuti nell'ambiente. Svoltasi ieri mattina in zona Laura Pestum, in un luogo simbolo il nuovo lungomare soggetto di recente ad un grande progetto di restyling, in ottica ecosostenibile con l'ampia area pedonale interdetta all'automotive e proiettata all'inclusione e alla diversità. Una bella collaborazione con McDonald's che ha scelto la nostra città per questa iniziativa, esordisce Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Pestum, che ieri mattina ha accolto i volontari per la giornata di pulizia. Noi abbiamo scelto di ospitarla in un posto che fino a poco tempo fa era degradato, sporco, pieno di comuni di immondizie e che oggi invece è un luogo bello, perché la gente si deve abituare alle bellezze e alla pulizia. Abbiamo scelto il nuovo lungomare come simbolo di un cambiamento che è possibile e abbiamo voluto la presenza di una scuola perché il rispetto e l'amore per l'ambiente devono nascere nei piccoli. Tutto è più semplice quando il seme viene messo a germogliare nei bambini e nei ragazzi perché in questo modo cresce con le persone per diventare un bene comune. Fondamentale nell'attività di pulizia e sensibilizzazione che ha interessato la pineta e parte dell'area a ridosso del bagnasciuga, la collaborazione degli uffici del comune, della SARIM, degli studenti del liceo scientifico Giovanni Battista Piranesi e delle associazioni Legambiente Pestum presieduta da Pasquale Longo e Geotrek Pestum presieduta da Giuseppe Gargano. Siamo molto orgogliosi dell'entusiasmo con cui il comune e i ragazzi hanno accolto la nostra iniziativa, sottolinea Luigi Snichelotto, partner McDonald's, per le province di Salerno e Potenza. Pestum con la sua città antica e i templi e culla della civiltà occidentale, un patrimonio storico, archeologico, straordinario, il cui valore è riconosciuto in tutto il mondo. Inoltre ci inseriamo in un territorio virtuoso, riconosciuto come Bandiera Blu 2021 grazie alla sinergia tra amministrazioni, operatori turistici, illuminati e cittadini. La campagna McDonald's interviene proprio a sensibilizzare alla tutela dell'habitat naturale e dei mari per evitare che i rifiuti e le plastiche abbandonate per strada possano arrivare al mare, con la formazione degli enormi accumuli formati dalle correnti oceaniche o la disgregazione microplastiche con enormi danni all'ecosistema e alla fauna marittima. oltre al rischio di penetrazione nella catena alimentare.